Pareggio a reti bianchi allo stadio comunale di Roccaforzata tra DRN Grandi Lavori e Don Bosco Boys. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto senza però trovare la via del gol con la giusta efficacia. Da registrare qualche occasione in più per DRN Grandi Lavori ma complici anche qualche salvataggio del portiere avversario, i rosso-blu hanno mancato l'appuntamento col gol troppo facilmente. Per gli Orange di Don Bosco Boys, reduci da due sconfitte consecutive, si tratta comunque di un risultato positivo per la lotta a salvezza che rimane apertissima. Ma veniamo alla cronaca della gara che vede la prima occasione per gli Orange di Don Bosco Boys ma la bella punizione di Fiorino finisce fuori di un soffio. Risponde DRN Grandi Lavori con un colpo di testa di caso ma per Visconti è tutto sotto controllo. La gioia serve un ottimo pallone per Buonamico che fa tutto la perfezione salvo poi ciabattare la sfera al momento della conclusione. Continua il botta risposta fra le due squadre all'undicesimo minuto ci prova Miceli dalla distanza ma la palla sorvola la traversa. Cross di Sardo dalla fascia destra per la corrente calabrese che prova la botta al volo di sinistro senza troppa fortuna però. Sagra del liscio in area Orange sugli sviluppi di questo calcio di punizione praticamente quasi tutti i giocatori hanno problemi col pallone. Ancora DRN Grandi Lavori all'attacco. Azione personale di Sardo che si libera di un paio di avversari e poi conclude direttamente tra le braccia di Visconti. Decrescenzo da fuori area tenta di sorprendere Visconti che non ci sta e salva la porta. Ancora un attacco degli avanti Rosso Blu con Calabrese che riceve palla al limite dell'area e si porta sul fondo da dove tenta la conclusione stoppata da Visconti. Colpo di testa mancato da caso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E con le immagini passiamo alla seconda frazione di gioco che si apre con Rucco che sul rinvio di Visconti decide di animare un po' la festa ciccando il rinvio e favorendo così l'inserimento di Bonamico che però non se la sente di infierire e conclude debolmente. Ottima l'intuizione di Guarella che serve scarci ma il numero 9 Rosso Blu cade nella trappola del fuorigioco messa in atto dai difensori Orange. Sardo è un caterpillar e resiste al tentativo di placcaggio di Padovano. L'esterno Rosso Blu poi si porta sul fondo da dove fa partire un traversone ma in area Orange si balla liscio come sulla riviera Romagnola. Calcio di punizione con scambio tra Decrescenzo e Felice che poi ci prova da fuori area ma il suo tiro si spegne sul fondo. Guarella approfitta di una palla recuperata dai suoi a centrocampo per sorprendere Visconti da fuori area. L'estremo difensore di Don Bosco Bois neutralizza in due tempi. Corrente suggerisce per Calabrese sulla fascia sinistra. Il traversone del numero 20 Rosso Blu non è sfruttato al meglio da Guarella che tenta il colpo di testa in avvitamento con la palla che finisce fuori. Break di Simone Recchia sul calcio di punizione. Palla alta sopra la traversa. Difende la palla con Caparvietà Marinacci che successivamente prolunghi in area per Bonamico il quale a due passi dalla porta conclude alto sopra la traversa. Pallone in profondità di Felice per Scarci che corsa al centro dove Rucca al volo di sinistro partecipa alla stagione venatoria ma nei pressi dello stadio comunale di Rocca Forzata vigia il divieto di caccia. Il triplice fischio dell'arbitro Stola della sezione di Taranto segna la fine delle ostilità e manda tutti negli spogliatoi. Tra DRN Grandi Lavori e Don Bosco Bois finisce con un nulla di fatto ed un punto ciascuno.